ciao a tutti bimbi oggi insieme leggiamo una delle fiabe più belle di sempre cappuccetto rosso eccolo qui allora siete pronti per leggere insieme a me e allora io vi ricordo che se anche voi volete avere questo libricino a casa vostra potete trovare giù in descrizione il link per acquistarlo direttamente da amazon ma mi raccomando chiedete sempre prima a mamma e a papà ora siete pronti benissimo eccoci qui cappuccetto rosso c'era una volta una bambina che abitava in una casetta nel bosco la chiamavano cappuccetto rosso perché indossava sempre un cappuccio rosso un giorno la mamma chiamò la bambina e le disse vai a trovare la nonna che è malata portale questa torta ma stai attenta non fermarti per la strada così non farai brutti incontri aggiunse ma la bambina dimenticò presso i consigli della mamma e si attardò lungo il sentiero per cogliere dei fiorellini profumati da portare alla nonna a un certo punto sentì un fruscire un fruscio venire dagli alberi improvvisamente un grosso lupo salto fuori da un cespuglio eccolo qui dove vai bella bambina chiese il lupo vado a portare questa torta alla nonna che è malata abita alla fine del sentiero disse la bambina facciamo una gara propose il lupo vediamo chi arriva per primo alla casa della tua nonna tu continuerai su questo sentiero e io farò una strada più lunga così sarai avvantaggiata la bambina accettò e si avviò lungo il sentiero il lupo che era molto astuto conosceva però una scorciatoia e arrivò subito alla casetta della nonna toc toc bussò chi è chiese la nonna la bestia rispose con una vocina dolce dolce scello cappuccetto rosso e ti ho portato una torta tira il paletto ed entra disse la nonna senza sospettare nulla il lupo entrò e non assò il polcone mangiò la vecchietta eccola qui poi si mise i suoi vestiti e si infilò nel letto dopo un po' di tempo dopo un po' di tempo cappuccetto rosso arrivò a casa della nonna la bambina bussò alla porta nonnina posso entrare chiese il lupo nascosto tra le coperte rispose vieni tira il paletto ed entra ma ma che vocione che hai nonna si stupì la bambina per salutarti meglio tesoro rispose il lupo e che occhi grandi che hai per guardarti meglio cara ma 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 che mani grandi che hai esclamò la bambina per accarezzarti meglio ma ma che bocca grande che hai per mangiarti meglio ruggì il lupo così mangiò anche cappuccetto rosso e sazio si addormentò passava di lì un cacciatore che sentì uno strano rumore provenire dalla casa sbirciò dalla finestra e vide il grosso lupo che dormiva nel letto allora prese il fucile sparò al lupo e poi con un coltello aprì la pancia della belva e sorpresa dal pancione del lupo uscirono sane e salve cappuccetto rosso e la sua nonna grazie per averci salvate mormorò la vecchietta che per gioia di vedere la nipotina guarì subito e la bambina felice promise di non disubbidire mai più alla mamma fine allora vi è piaciuta la storia di cappuccetto rosso se sì io vi lascio giù il link in descrizione per acquistare anche voi il libricino e mi raccomando lasciate un pollice in su noi ci vediamo prestissimo con un altro video e un'altra fiaba ciao